Forza Italia fuori dalla giunta Toffolo sta scatenando un mare di polemiche, questa sera l'incontro decisivo tra i vertici del partito in provincia guidato da Gianluca Forcolin e il consigliere escluso dalla giunta Pietro Rambuschi. Con operazione Fiumi 2024, Legambiente Veneto monitora lo stato di salute dei fiumi, malissimo il fiume Livenza a Mansuè, Motta di Livenza e Caorle. Politica e società, il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozella, interviene sul tema del ricambio generazionale, sia politico che economico e sociale e si guarda già al post-ciriani. Tornano anche per l'estate 2024 lungo le spiagge di Levante e Ponente a Caorle, gli steward. L'obiettivo è dissuadere gli utenti della spiaggia dalle condotte vietate. Ben ritrovati con l'informazione di Media24. In primo piano lo stato dei fiumi con il monitoraggio realizzato da Legambiente Veneto. I dati sono pessimi per quanto riguarda il fiume Livenza, in maniera particolare nei tre punti di campionamento di Mansuè, Motta di Livenza e Caorle. Vediamo il servizio. L'ente di ingrandimento puntata sul fiume Livenza per l'equipaggio di operazione fiumi, la campagna di citizen science e ambientalismo scientifico di Legambiente Veneto, realizzata grazie al supporto tecnico di ARPAV, con il contributo di COP Alleanza 3.0 e con il patrocinio delle autorità di bacino distrettuale del fiume Po e delle Alpi orientali e con il partner tecnico Strada SRL. I parametri osservati in questa quarta edizione, oltre al batterio Escherichia Coli, i batteri fecali che permettono di verificare lo stato di depurazione delle acque, sono stati il glifosate e, novità per il 2024, i PAS. Legambiente ha monitorato la qualità delle acque del fiume Livenza in 5 punti. Tutti i punti monitorati sono risultati al di sopra del valore consigliato da ARPAV, che è attestato a 1000 mpn per 100 ml, entro il quale si comincia a prendere in considerazione la possibilità di porre delle restrizioni per l'uso irriguo delle acque e addirittura in 3 punti, a Mansuet, Motta di Livenza e a Caorle, si sono registrati valori superiori ai 5000 mpn per 100 ml, il limite consigliato allo scarico. Preoccupante è il picco di concentrazione di batteri fecali riscontrato a Motta di Livenza in località Colmello Albano, arrivato addirittura a 24.196 mpn per 100 ml, e da segnalare lo sforamento alla foce, in un'area ad alta densità turistica. 5 punti su 5 con valori superiori alla prima soglia di allerta consigliata da ARPAV. 3 su 5, oltre il valore limite allo scarico e un picco significativo in località Colmello Albano, sono indicatori che segnalano un fiume in sofferenza sul fronte della depurazione, è il commento di Francesco Tosato, portavoce di Operazione Fiumi. I campionamenti sono stati effettuati nel mese di maggio, in un contesto di piena eccezionale. Questa condizione può aver influito sulla maggior concentrazione di batteri fecali rilevati, ma tenendo conto che dopo circa un giorno non sono più rintrazzabili, è evidente che rispetto alla presenza di sversamenti o scarichi non controllati, è necessario tenere alta la guardia, in un corso d'acqua come il Livenza, che già in passato ha riscontrato valori fuori dai limiti e, a maggior ragione, un fiume che sfocia in una località molto frequentata da bagnanti durante i mesi estivi. È qui in studio con noi Maurizio Billotto, referente di Lega Ambiente Veneto Orientale. È qui con noi per parlarci di una bella iniziativa che è in corso in queste settimane, un campo internazionale alla Green Station di San Steno di Livenza. Si racconta un po' il progetto e come sta andando? Beh, allora, la Green Station nasce nel 2016 ed è un intervento di recupero di edifici abbandonati ferroviari, poi destinati all'ospitalità del turismo lento, quindi di chi segue il cammino della via Postumia, quindi dei pellegrini, e poi di chi è in giro in bicicletta. In quest'area, in questo spazio che l'Associazione ha recuperato, ospitiamo, appunto, sempre dal 2016, dei campi di volontariato. Sono campi in cui noi ospitiamo solo ragazzi minorenni, quindi particolarmente impegnativi, perché richiedono la presenza costante di almeno due adulti per le 24 ore. E sono ragazzi che provengono da tutto il mondo, all'inizio non solo dall'Europa, l'anno scorso avevamo ragazzi dal Vietnam, quest'anno ci sono statunitensi e quindi arrivano un po' da tutto il mondo. È un campo che si realizza grazie al sostegno economico, al contributo anche dei comuni di San Stino di Vivenza e Pramaggiore, i quali ricevono, diciamo, il servizio di questi ragazzi, ovvero i ragazzi durante le due settimane che sono qua, svolgono attività di utili alla collettività, manutenzioni presso il bosco, oppure presso, come a Pramaggiore, presso il mulino di Belfiore, la Castellina o altre aree di, diciamo, di pertinenza, di interesse del comune. Oltre a questo, una cosa a cui noi teniamo in maniera particolare, i ragazzi incontrano i loro coetanei. Allora, stamattina erano a Pramaggiore ad incontrare i ragazzi del Punto Verde, questa sera saranno a San Stino a incontrare i coetanei che svolgono le attività di animazione presso il Gresta e l'abbiamo fatto anche nei giorni scorsi a Ceggia. Perché facciamo questo? Perché secondo noi sono portatori di un messaggio estremamente positivo. La volontà di mettersi in gioco, di andare a scoprire luoghi, culture, ma soprattutto mettere a disposizione il loro tempo per società che per loro sono assolutamente estranee alla loro vita. Quindi c'è gente che ha percorso il ragazzo che arriva dagli Stati Uniti e ha fatto 27 ore di viaggio prima di arrivare qua. Quindi per dire, no? E quindi per noi sono segnali positivi. Li lasciamo in modalità libera con i loro coetanei, quindi niente di strutturato, ma semplicemente il raccontarsi, raccontare il perché delle loro scelte, raccontare di come sono arrivati a queste scelte, quindi chi volesse imitarli o fare qualcosa di simile, come può ricercare queste opportunità che in Italia, oltre alla Lega Ambiente, ci sono moltissime altre associazioni che le propongono. Nel territorio ci può essere il CAI, piuttosto che una portatuta di Colibera con i campi della legalità, insomma. Ecco, quindi si può dare il proprio tempo, il proprio servizio, rimanendo anche nel proprio paese, però anche mettendosi in gioco. Sono ragazzi di paesi diversi che quindi la prima cosa che devono fare è fare gruppo tra di loro, conoscersi e svolgere le attività che fai in un campo, quindi devono imparare a farsi da mangiare, a far tutto quello. E sono ragazzi che vanno dai 15 ai 17 anni. Quanti sono in tutto? Sono 8, non sono tantissimi, ma è una questione proprio di... all'inizio i primi due campi li abbiamo fatti anche con 14 ragazzi, ma poi abbiamo verificato che è bene avere un gruppo più gestibile e soprattutto che crei un'ottima interazione tra loro e soprattutto sull'esterno. Ieri sera si sono salutati quei ragazzi di Ceggia, lacrime e lacrimucce, anche mezzi amori. Quindi diciamo, c'è molto... è quello che succede normalmente tra adolescenti, ecco. Però l'obiettivo che noi avevamo e che è quello che ci proponiamo è proprio quello del modello sociale, culturale, di giovani che si mettono in gioco e che quindi propongono una società aperta, curiosa, verso le altre culture e soprattutto disponibile al servizio. Ecco, secondo noi questo è il modello molto interessante. Grazie a Maurizio Billotto. Grazie a voi dell'ospitalità. Scoprire il territorio, conoscere i suoi segreti e le sue peculiarità. Con questo spirito parte l'edizione annuale di Giralemene, progetto che tra i suoi obiettivi ha quello di creare sinergie di sviluppo durante i principali eventi culturali e gastronomici del territorio. Il programma stilato prevede due escursioni che dopo un'introduzione al patrimonio archeologico di Portogruaro, Concordia Sagittaria e Caorle, porteranno i visitatori a esplorare l'ambiente della campagna e il paesaggio lacustre, educando al rispetto della biodiversità mediante crociere fluviali. A implementare la rassegna ci saranno altre sette escursioni con visite guidate alla scoperta del patrimonio storico-artistico della Venezia orientale. Le prime iniziative sono in programma il 17 e il 24 luglio in occasione dei mercoledì musicali a Portogruaro. Il 2 agosto la visita guidata serale al centro di Concordia Sagittaria in occasione della fiera di Santo Stefano e il 24 agosto la pedalata nella tenuta di Cacorniani a Caorle. Un tour dedicato alla valorizzazione dei centri storici delle tre città di riferimento con passeggiate e pedalate gratuite in occasione delle principali rassegne economico-culturali. E con grande entusiasmo ha affermato Manrico Pedrina, presidente di Ascom Servizi Portogruaro, che annunciamo il lancio del progetto Giralemene, tradizione, innovazione e sostenibilità tra le eccellenze e i tesori del territorio. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore importante passo avanti per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturale. Siamo collegati con Gianluca Forcolin, coordinatore provinciale di Forza Italia, perché a Portogruaro tiene banco ovviamente l'esclusione di Forza Italia dalla giunta Toffolo. Forcolin, le chiedo le sue considerazioni anche alla luce della delusione che ieri, proprio qui da noi, il consigliere Pietro Rambuschi ha reso palesi. Credo che siano legittime la delusione e l'amarezza dell'amico Piero Rambuschi in una situazione che è assolutamente straordinaria, nel senso che credo che il sindaco Toffolo dovrà comunque anche rispondere rispetto a questa anomalia. Io da 30 anni che faccio politica non ho mai visto una situazione del genere, nel senso che quando un centrodestra unito corre e lo stesso Toffolo definisce una questione così storica dove Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia corrono assieme con lo stesso candidato, lo stesso programma elettorale e quindi uno si aspetta che dopo la vittoria con il contributo prezioso e importante di Forza Italia, del gruppo della lista guidata da Piero Rambuschi, ci sia giustamente quel premio che è la legittimazione di un seggio in giunta comunale. Mi sembra che questo sia l'ABC di una normale collaborazione e leale collaborazione. Per cui di solito, come si è fatto peraltro a San Donato di Piave lo scorso anno, il centrodestra unito ha corso con un accordo che era legittimo, che era quello si parte dai tre partiti principali che hanno un seggio a testa, quindi uno, uno e uno in giunta, poi a consultivo, come è giusto che sia, si traggono le conclusioni, ha tirato di più Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia eccetera e quindi si vanno a fare poi le contropesature sugli elementi in più ovviamente rispetto a questa base. Però qua è mancata la base e quindi il fatto eccezionale e straordinario è che è mancata la base. E quello che mi rammarica è il fatto che io ho partecipato da subito alla presentazione del candidato e Toffolo, siamo stati leali, come ha detto Rambuschi, abbiamo corso per la vittoria, ha contribuito in modo importante e durante il percorso dopo la vittoria per la stesura e quindi la compilazione un po' dello scacchiere della giunta ho avuto più volte rassicurazioni dallo stesso sindaco che non vi era nessun problema di legittimazione ovviamente di un seggio, di un assessore in giunta da parte dello stesso sindaco che io avevo appunto indicato nella figura di Rambuschi. Ultima chiacchierata che ho fatto non più tardi di giovedì venerdì scorso all'assemblea della TVO per l'approvazione del bilancio della TVO dove c'era presente anche il sindaco Toffolo che mi confermava di avere qualche problema nel chiudere la giunta ma non era assolutamente legato a Forza Italia ma legato ad altri evidentemente accordi da rispettare, cose legittime, cose sue. Io non ho mai tirato la giacca, non ho mai chiesto nulla di più se non quella posizione che era il minimo sindacale da un accordo del centro-destra unito. Ebbene lunedì c'è stata questa, è arrivata questa mazzata, questa doccia fredda dove appunto mi trovo da coordinatore provinciale ad aver corso appunto in modo leale qui i miei omologhi di Fratelli d'Italia, della Lega in un accordo e oggi scopro che il sindaco ha preferito un'attrazione Fratelli d'Italia-Lega perché se consideriamo tre sono di Fratelli d'Italia, due compreso il sindaco e la Fogliani sono della Lega e posso dire che insomma c'è un'attrazione di destra, di destra pura più che di centro-destra. Manca quell'elemento cardine che connotava la coalizione di centro-destra oggi è una connotazione di destra. Se ci aggiungo che politicamente il buon Salvini ha fatto quell'alleanza con i patrioti d'Europa, con Orban, la Le Pen eccetera, posso dire che insomma se un giorno si vede dal mattino non mi piace tanto sta cosa. Però l'ho detto ieri anche attraverso la stampa e c'è mancato il rispetto perché per me la stretta di mano e il rispetto vale prima di qualunque altra cosa. Abbiamo corso nel centro-destra unito? Sì. Abbiamo chiesto qualcosa in più di un seggio? No. Me lo hai garantito per 15 giorni? Ecco, io lunedì mi aspettavo la conferma di una giunta che potesse avere quella figura di Forza Italia e legittimamente ho lasciato carta bianca a Toffolo di fare tutti i suoi accordi comprese le eventuali liste civiche o situazioni che avesse ritenuto utili alla collaborazione e quindi alla connotazione della miglior giunta possibile per Porto Uguaro. Ciò non è avvenuto, ne prendo atto con rammarico, ho avvisato di questo i vertici regionali perché ovviamente i comuni sopra i 15 mila abitanti hanno avuto anche all'origine il benestare del coordinamento regionale e quindi è giusto che il coordinamento regionale e quindi il mio referente Flavio Tosi sia al corrente di quello che è accaduto a Porto Uguaro. A questo punto la presidenza del Consiglio Comunale che, insomma, stando ai rumors dovrebbe essere proposta in compensazione a Forza Italia, basterà a placare il caso oppure non sarà solitenuta sufficiente? Ma guardi, a me non piacciono le compensazioni, nel senso che io non faccio politica per compensazioni, io chiedo quello che è legittimo chiedere e quindi quello che è normale chiedere. E ripeto, in 30 anni di attività politica non ho mai visto un caso del genere dove un centrodestra che non sempre ha questa fortuna di correre comunque legittimamente per un unico candidato al quale abbiamo giurato fedeltà in campagna elettorale dal primo giorno, mi trovi in questa situazione. Forse dal punto di vista politico oggi dovrei dire che la mancanza di rispetto potrebbe portare a qualche scelta anche drastica, però per rispetto che ho per Piero Nambuschi, per la squadra che ha lavorato a Portoguaro, mi confronterò con lui, ho un incontro fra l'altro stasera proprio di coordinamento provinciale e scioglieremo le riserve assieme a Rambuschi che è il mio riferimento. Forse dal coordinatore provinciale qualche scelta l'avrei già presa, ma ripeto ho rispetto per il territorio, per gli iscritti e per il lavoro che ha fatto Rambuschi, i ragazzi, gli youth, tutti i gruppi giovani che oggi mi stanno anche dando una mano per una svolta importante per la Forza Italia del futuro. E credo sia quanto mai importante, soprattutto per Portoguaro, che è sempre stata una comunità con un governo mediamente di centro, centro-sinistra, centro-destra, ma comunque di centro, oggi riportare la palla e la connotazione politica proprio attraverso questo tipo di scelta che è quella vicina a Forza Italia stessa che da sempre si apposta al centro del dibattito politico. Grazie Gianluca Forcolin. Grazie a voi, buon lavoro. Dai banchi delle minoranze arriva invece la notizia della costituzione dei gruppi consigliari per quanto riguarda le civiche di Sara Moretto. Per quanto riguarda la sua coalizione di liste saranno due i gruppi consigliari, civiche per Sara Moretto, composta dalle consigliere Sara Moretto e Ketty Collin e uniamo Portogruaro. composta dal consigliere Luigi Geronazzo. La scelta dei due gruppi consigliari, precisano dalla coalizione, è stata assunta di comune accordo. Per Ketty Collin il metodo che contraddistinguerà la nostra azione sarà quello anticipato in campagna elettorale. Valuteremo nel territorio e senza pregiudizi le scelte che verranno poste in discussione in Consiglio Comunale, ma al contempo ci impegneremo a proporre e a portare avanti i temi contenuti nel nostro programma elettorale così come abbiamo fatto già sul tema del secondo nuovo asilo nido. Luigi Geronazzo sottolinea invece come l'attività dei due gruppi consigliari che rappresentano la coalizione procederà in modo unitario e sarà alternativa ad entrambi gli altri schieramenti presenti in Consiglio Comunale. Il nostro progetto politico-amministrativo prosegue. A conclusione Sara Moretto afferma «Sono convinta che già questi primi mesi di mandato saranno decisivi per disegnare il futuro della città. Ci sono opportunità da cogliere e decisioni da prendere che non ammettono incertezze, ritardi o ambiguità. Il nostro impegno sarà rivolto esclusivamente ai portogruaresi, ai loro bisogni e alle loro ambizioni di un territorio che deve ripartire. Faremo un'opposizione senza sconti, liberi da vincoli, imposti da altri». E se a Portogruaro il clima così è bollente per la formazione dell'Aggiunta, a Pordenone invece ribolle perché già si pensa al prossimo anno e al post siriani. Sentiamo il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozella. Il tema del conflitto generazionale è ormai di attualità. Noi lo abbiamo denunciato da tempo parlando della fuga dei nostri giovani dalla nostra regione, giovani laureati che non vedendo nella nostra regione una prospettiva, una prospettiva di vita, fuggono all'estero dove trovano salari migliori, lavori migliori e anche appunto una prospettiva. Però il tema generazionale oggi e non solo oggi riguarda anche le imprese, ovvero il tessuto economico della nostra regione. Non si trovano più giovani capaci, in grado, vogliosi o a cui viene data la possibilità di condurre imprese. Molte start-up, ovvero il 75% delle start-up nate dall'idea di giovani imprenditori, muoiono perché non sono finanziate e nessuno crede in loro. E questo vale anche per il ricambio generazionale all'interno delle grandi dinastie imprenditoriali che sempre più spesso vendono a fondi esteri. Questo qui è un tema che deve essere portato all'attenzione della classe dirigente della nostra regione attraverso quello che noi chiediamo da tempo, ovvero la convocazione degli stati generali. Tutti devono partecipare per trovare una soluzione e soprattutto per dare una prospettiva alle nuove generazioni. Il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, ha annunciato l'intenzione di stipulare un protocollo di intenti con il comune tedesco di Hude per potenziare lo scambio tra le due comunità gemellate dal 2002. Questa dichiarazione è avvenuta a margine di una recente riunione in videoconferenza con il sindaco della cittadina della bassa Sassonia, Jorg Scatulla. Grazie al forte legame costruito tra i cittadini di Fiume Veneto e di Hude nel corso degli anni e alla recente relazione tra le istituzioni, abbiamo oggi l'opportunità, spiega Canton, di realizzare e sviluppare progetti rivolti soprattutto ai giovani, sfruttando tutte le potenzialità che un gemellaggio tra paesi europei può offrire. Con il sindaco Scatulla stiamo lavorando per formalizzare modalità operative e obiettivi pianificando progetti nei settori della scuola, dello sport e della cultura. Il prossimo autunno segnerà quindi un momento cruciale per entrambe le comunità quando il protocollo di intenti sarà ufficialmente firmato. L'obiettivo è chiaro, costruire insieme un percorso che grazie al supporto di finanziamenti europei e internazionali porterà benefici tangibili e duratori ad entrambe le comunità. E lunedì scorso a Roma si sono svolte ufficialmente le premiazioni per il concorso internazionale dell'Associazione Città del Vino, aggiunto quest'anno alla 22esima edizione. Vediamo il servizio. A seguito del 22esimo concorso internazionale svolto a Gorizia, lunedì scorso si è tenuta alla premiazione ufficiale dell'Associazione Città del Vino nel Palazzo del Campidoglio a Roma. Il concorso internazionale ha premiato i migliori vini in concorso con 48 gran medaglie d'oro, 38 all'Italia e 10 a vini stranieri e 318 medaglie d'oro, 269 a vini italiani e 49 a vini esteri. Tra i paesi esteri si sono registrate le ottime performance di nuovi paesi partecipanti come il Libano, Israele, Cile e Messico, tutti alla loro prima partecipazione. Incetta di premi per il Veneto, soddisfazioni anche per il Veneto orientale che ha visto premiate diverse aziende, alcune delle quali facenti parte del biodistretto Bio Venezia. Buoni risultati anche per il Friuli Venezia Giulia, con sei medaglie in provincia di Pordenone. Durante la premiazione si sono tenuti i saluti delle istituzioni. La carica più importante presente era il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il quale ha sottolineato l'importanza della valorizzazione degli imprenditori e dei territori italiani. Abbiamo una grandissima eccellenza, ha dichiarato Lollobrigida, il nostro sistema vitivinicolo. Il vino è un vero gioiello del nostro settore agricolo, sintesi del rapporto tra uomo, natura e territorio. Rappresenta un motore trainante per l'economia italiana e per le nostre esportazioni. Dobbiamo raccontarlo e valorizzarlo. Un lavoro svolto in maniera eccezionale dall'Associazione Città del Vino, con eventi come il 22esimo concorso enologico internazionale Città del Vino 2024, celebrato appunto in Campidoglio. Grazie, ha detto il Ministro, a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere grande la nostra agricoltura e i suoi prodotti sinonimo indiscusso di qualità. In spiazza a Caorle tornano anche quest'anno gli steward del Consorzio Arenili. L'obiettivo è quello di dissuadere gli utenti dalle condotte vietate. Vediamo il servizio. Tornano anche per l'estate 2024, lungo le spiagge di Levante e Ponente a Caorle, gli steward, uno per ciascuna spiaggia durante la settimana e due per ciascuna spiaggia nel weekend, che hanno il compito di informare i bagnanti sulle norme di corretto utilizzo dell'arenile. In particolare, il personale incaricato dal Consorzio Arenili di Caorle, che transita lungo le spiagge e a bordo di monopattini elettrici e quindi non inquinanti, ha il compito di invitare i turisti a non sostare con attrezzature, ombrelloni e asciugamani lungo la battigia e comunque nell'area posta tra il mare e le file di ombrelloni degli stabilimenti balneari, in adempimento all'ordinanza sulla balneazione emessa dalla Capitaneria di Porto di Caorle e ai provvedimenti analoghi del Comune di Caorle. Si tratta di comportamenti che sono vietati dalla normativa in vigore per il territorio comunale di Caorle, per ragioni di sicurezza e di corretto utilizzo dell'arenile, spiega il Presidente del Consorzio Arenili di Caorle, Alberto Borin. Questi divieti, peraltro, sono segnalati in tutta la cartellonistica presente, sia presso gli accessi al mare che nell'area frontemare posta davanti ai tratti di arenile di cui il Consorzio detiene le concessioni. Voglio ricordare che il passaggio sulla battigia e sul tratto di spiaggia contiguo deve essere sempre lasciato libero per il transito dei mezzi e del personale di soccorso e che gli utenti che frequentano la spiaggia di Caorle hanno la possibilità di affittare gli ombrelloni che noi mettiamo a disposizione, contribuendo così a garantire importanti servizi che il Consorzio offre, quali il salvataggio, la pulizia della spiaggia, l'animazione e molto altro ancora. In supporto agli steward sono intervenuti in alcune occasioni anche gli agenti della polizia locale, compatibilmente con gli impegni legati alla tutela dell'ordine pubblico e agli altri compiti di questa forza di presidio del territorio. Chiaramente la presenza della polizia locale aiuta il compito dei nostri operatori, in quanto ne aumenta l'autorevolezza, aggiunge il presidente Borin. Abbiamo condiviso con il comando della polizia locale la possibilità di ulteriori interventi nel corso dell'estate, al fine sempre di migliorare la fruizione della spiaggia. Gli steward, inoltre, hanno anche la funzione di dissuadere, per quanto possibile, ambulanti e prestatori di servizi non regolari, dallo svolgere l'attività in spiaggia, spesso sgradita dalla clientela che utilizza i servizi offerti dal Consorzio Renili. E questa era l'ultima notizia di oggi, vi lascio alla programmazione di Media24 e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.